Dalla sconfitta di Viterbo in casa del Monterosi sono cambiate molte cose. Quell'avellino abulico, scarico, disorganizzato non l'abbiamo visto più. Dalla vittoria contro la Virtus Franca Villa al pareggio del Barbera, la compagine bianco-verde sembra aver tirato finalmente fuori gli attributi con la A maiuscola. Già perché uscire indenni da tre stadi storicamente impuocati, come il degli Olivi di Andria, il Massimino di Catania e il Barbera di Palermo, testimoniano che la scuola di Braia può giocarsela dappertutto a viso aperto, e specie nelle ultime due trasferte siciliane, dominando gli avversari e creando palle-golla a Iosa per le punte. I migliori del match sul campo dei rosa-nero sono stati gli esterni Mamadou, Canutè e Antonio Di Gaudio. L'esterno senegalese corre come un dannato, anche se davanti alla porta fallisce un comodo colpo di testa. Dribbling, qualità, cazzimma! Se fosse più lucido sotto a porta, di sicuro giocherebbe in Serie B ad occhi chiusi. Arrivato con scetticismo, è uno dei beniamini della piazza a bianco-verde. Il gol alla Pagnese lo ha sbloccato, Antonio Di Gaudio è il leader di questo Avellino. Esplosivo, semina il panico sulla sinistra, fugge via a Doda e impegna Peragotti, poi colpisce un Paolo a botta sicura di testa. Gli è mancato solo il gol per disputare la classica partita perfetta. Continua così, Totò. Sotto tono, l'attaccante Luca Gaiano. Dal capocannoniere della squadra ci si aspetta sicuramente di più. Qualche spintone con la retroguardia rosa-nero, qualche calcio piazzato conquistato e nulla più. Addirittura Braia lo toglie dalla mischia negli spogliatoi dopo il primo tempo. Spettatore, non pagante. Bocciata anche la telecronica di Eleven Sports. Soprattutto il commento tecnico dell'ex calciatore del Palermo Giacomo Tedesco, palesemente dispiaciuto dopo l'episodio del calcio di rigore assegnato ai lupi. Va bene essere di parte, va bene simpatizzare per una squadra, ma serve portare il doveroso rispetto verso la tifuseria avversaria. L'ex centrocampista rosa-nero è stato poco professionale e a questo a molti non è andato. Giù!